Allora, buongiorno signori! Visto che abbiamo fatto assieme l'impasto di questo pane ieri, ci tenevo a farvi vedere com'è venuto. Una bella pancia, una bella cottura. Ormai è a temperatura ambiente da 5 ore. Una bella orecchia. Adesso ce lo tagliamo assieme. Un bel bestiore. Eccolo qua. Allora, per riassumere, tutta tipo 0, è una tipo 0 biologica abbastanza scarsa in glutine. Idratazione del totale attorno al 70-72%, solo sulla farina eravamo verso il 73-74. 16-17% di lievito madre solido. 2% circa di sale. Si è fatto 3-4 ore a temperatura ambiente e poi sono andato in frigo fino ad oggi. Il tuo risultato è questo. Un bel pane. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.